ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco ressource energy a cosa serve ressource energy a un parafarmaco appartenente alla categoria degli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali è commercializzato in italia dall'azienda nestle health science informazioni commerciali titolare nestle health science concessionario nestle health science categoria di appartenenza alimenti dietetici destinati a fini medici speciali confezioni ressource energy gusto albicocca 4x 200 ml ressource energy gusto banana 4x 200 ml ressource energy gusto caffè 4x 200 ml ressource energy gusto cioccolato 4x 200 ml ressource energy gusto fragola 4x 200 ml ressource energy gusto vaniglia 4x 200 ml indicazioni di alimento dietetico destinato a fini medici speciali indicato per il regime alimentare di pazienti che necessitano di un elevato apporto energetico in volume ridotto per problemi di denutrizione o in casi di aumentati fabbisogni calorici che non possono essere superati con un regime dietetico normale componenti e ingredienti valori nutrizionali medi 100 ml valore energetico 150 cal 640 cappa lunga proteine 5,6 g 15 per cento cal carboidrati 21 g 55 per cento cal grassi 4,5 g 27 per cento cappa lunga vitamine e minerali valori riferiti al gusto vaniglia privo di glutine fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo para farmaco esaminato